Intanto devo dirvi che, scusami Eleonora, mi passi il cellulare perché ci sono, prendo il cellulare e vi spiego il motivo perché ci sono tantissimi su Zoom, sì sì, grazie, e quindi probabilmente potrebbero arrivare delle domande, sono anch'io collegato, su Zoom. Insomma, questo risultato che riguarda la vostra partecipazione dice intorno a questo argomento qualcosa di estremamente importante. Sapete cosa dice? Non dice curiosità, a me non mi dice che siete curiosi, a me dice che c'è un popolo che vuole sapere che cosa Dio pensa di questo. E quindi questo mi incoraggia moltissimo, mi incoraggia tremendamente, sono felice di potervi parlare e di poter fare delle considerazioni insieme con voi. Se ne andranno 5-6 lezioni su queste. Ovviamente non vi toglieremo la riunione giovanile perché è meravigliosa la riunione giovanile, ma magari proveremo a farlo una volta al mese. E quindi stasera si tratterà di una introduzione comunque molto colorata. E l'argomento che mi è stato chiesto di affrontare dal Dipartimento dei Giovani, dai responsabili dei Giovani a metà agosto, è un argomento che mi ha costretto, dico felicemente, a studiare e ad approfondire molte fonti. Perché nel frattempo non posso dichiararmi al momento, ecco, quindi è giusto che io vi dica intanto la mia preparazione in questo momento a che livello è su questo. Non posso dichiararmi esperto teologicamente in questo, ma in qualche modo mi state costringendo a diventare esperto. Solo la lezione di questa sera mi ha tenuto impegnato 15 giorni. Ho dovuto prendere delle fonti anche estere, in lingua inglese. Mi sono dovuto accaparrare, ecco, riflessioni che importanti uomini di Dio hanno fatto. E non sono voluto andare, però, alla ricerca di quelle fonti che vogliono in qualche modo rimanere in periferia all'argomento. Ho cercato le fonti che mi portavano al centro dell'argomento. E ho scoperto che ci sono degli uomini di Dio validissimi che hanno trattato l'argomento e che in qualche modo mi hanno spinto a trattare l'argomento chiaramente mettendo in campo le mie risorse. E in qualche modo facendomi anche talvolta guidare. La riunione di questa sera sarà fatta in diversi tempi. Il primo tempo sono appunto le riflessioni intorno a questo argomento e intorno al primo tabù da abbattere. Voi avete visto? Credo che alle spalle ci sia già il titolo. Ecco, la sessualità nella Bibbia, la fine dei tabù o la morte dei tabù. Adesso poi vediamo alla fine del percorso come lo vogliamo chiamare. Stasera c'è un primo tabù che dobbiamo abbattere e che è un tabù che ci deve rendere stasera felicemente onesti. Quindi questa è la prima cosa stasera perché altrimenti non possiamo entrare nelle altre stanze nei mesi prossimi. Quindi questo argomento avvita a capacità di trasmissione nella misura in cui noi lo affrontiamo con onestà. Chiaramente con privacy nessuno di noi sarà chiamato a esporre le proprie difficoltà, le proprie sfide o le proprie vittorie al momento. Però dobbiamo affrontare questo argomento con la massima onestà, senza il timore di affrontare degli argomenti che fino a poco tempo fa sono risultati dei tabù. Io quando mi sono convertito mi sentivo in difetto solo se pronunciavo la parola sesso. Il sesso, la sessualità già mi sentivo. Ma la cosa più bella e più entusiasmante che possiamo dare alla lettura di questi argomenti è che Dio ne parla. E' Dio che ne parla. E' Dio che tratta l'argomento. E non solo. Dio non solo tratta l'argomento. Non svenite con questa frase che sto per dirvi. Dio ha creato l'argomento. E' lui che l'ha creato questo argomento. Ci siete? Com'è? State ancora bene? Quindi noi non possiamo non trattare un argomento che Dio ha ideato e creato. La libertà con la quale lo trattiamo viene proprio dal fatto che è Dio che l'ha posto in essere questo argomento. E non è che l'ha posto in essere dopo la caduta di Adamo. Quindi come rimedio o come defezione o come allontanamento o come risultato di una caduta. Ma l'ha posto in essere prima della caduta di Adamo. Quindi la questione è perfettamente legata alla creazione. Noi stiamo trattando l'argomento che è un argomento che Dio ha posto in essere. Che Dio ha creato. E proprio perché Dio l'ha creato possiamo avere la libertà di discutere, di riflettere, di proporre, di ragionare. Intorno a questo argomento. Quindi la prima cosa da fare stasera e credo che l'abbiamo già fatto in questi minuti mentre facevo accenno a questo, diciamo così, introduzione è sapere che stiamo trattando un argomento il cui autore è Dio. Ed è un argomento che non nasce nel periodo del peccato manifesto, nel periodo della trasgressione avvenuta, dell'allontanamento. Nasce quando tutto è perfettamente in linea con la creazione. Quando tutto è, uso questo termine, forse potrebbe essere improprio, ma forse è il caso di usarlo. Quando tutto è divinamente a posto. Questo noi vogliamo trattare. Quindi saranno fatte queste riflessioni. Poi faremo un sunto velocissimo attraverso le slide. Chiuso la prima parte di queste riflessioni, con la collaborazione di Irene Zingaretti, vedremo le slide come una sorta di riassunto, in modo che vi lasciamo l'immagine di alcune cose. Poi concluderemo con la voce di, tra virgolette, un'attrice nostra, evangelica. La voce di Eleonora, che ci rivelerà un discorso che è avvenuto tra un giovane e un pastore. E poi concluderemo, questa sera. Dunque, iniziamo con queste riflessioni. Ho una proposta ovviamente da farvi. Io vi ho detto che ci ho messo due settimane per fare questo, e quindi c'è anche un motivo per il quale ho impiegato due settimane. Perché lo stiamo facendo in modo da, e dico al plurale, lo stiamo facendo, in modo da partorire un testo, un manuale dopo. E allora, stasera, mentre si adorava il Signore, ho pensato, se voi avete voglia di trasmettermi, senza necessariamente nome e cognome, le vostre esperienze vere al riguardo, dove vi hanno portato, come vi fanno soffrire, o le vostre vittorie su queste esperienze, e le volete far entrare in una specie di diario, appunto, che leggerà la nostra attrice lungo il percorso, senza citare chiaramente i nomi, allora possiamo fare in modo che questo manuale, come autore non abbia solo Gennaro Chiocca, ma possiamo editarlo con giovani valorosi, magari. Cosa dite? Se avete voglia, ovviamente, di trasmettervi le vostre esperienze. Dunque, come vi dicevo, forse nessuno di voi immagina che l'argomento che stiamo trattando è, senza alcun'ombra di dubbio, fondamentale per la Chiesa. Questo argomento è fondamentale per la Chiesa. Voi dite, ma non si è mai trattato. Appunto. E allora spiegatemi perché siete così in tanti stasera. Se non è un argomento principale, spiegatemi perché stasera qui ne siete 300 e su Zoom 180. Se io sabato prossimo faccio un'altra riunione e la riunione la chiamo, che ne so, fondazione di case di riposo, io non sono convinto che ci saranno 180 su Zoom e 300 qui. Che dite? Perché siete qui? Perché voi ritenete. Ma non vi dovete vergognare. Voi ritenete che questo argomento è importante. Anzi no, mi sono sbagliato. Voi non ritenete che è importante. Voi ritenete che è fondamentale. Sapete perché? Perché è la vostra vita. Sapete perché? Oh, se iniziano gli svenimenti abbiamo un po' di infermieri qui in giro che possano. Perché nessuno di voi è escluso da questo argomento. Perché c'è un argomento nella Bibbia finalmente che tocca tutti qui. Tutti. nessuno di voi può dire non mi interessa, non mi appartiene. Ecco perché siete così in tanti e ovviamente apprezzo moltissimo la vostra presenza. quindi c'è qualcuno che si è scandalizzato perché ho detto che questo è un argomento fondamentale nella Chiesa per la Chiesa ecco se ti sei scandalizzato a questo mio primo pensiero allora preparati al peggio perché ti farò scoprire come il diavolo in millenni sia stato capace di sporcare nell'uomo quando uso il termine uomo ish indico uomo e donna della capacità che lui ha avuto di sporcare nell'uomo nella società un dono divino intimo profondo e iniziate a buttare giù i tabù e puro perché nessuno di voi forse è arrivato a questa data pensando che stasera noi parliamo di un argomento puro perché è puro? perché ve l'ho spiegato prima perché è stato creato prima della caduta e quindi è puro è stato sporcato ma è puro non è il risultato della caduta il dono della sessualità è il risultato della creazione che è diverso ha condizionato il diavolo decine e decine di società nazioni ovviamente tutte sto facendo un percorso storico nella scrittura ha condizionato per decine di secoli miliardi di persone influenzandoli a vivere questo progetto celeste prima vi ho detto che è un dono adesso io invece vi dico che è proprio progetto da dove ricaviamo che è un progetto dal fatto che Dio ad un certo punto guarda l'uomo e dice non è buono che l'uomo sia solo nasce il progetto gli farò gli farò un aiuto convenibile quindi voi vedete che quello che noi stiamo trattando è qualcosa che è partito dalla mente di Dio e che noi dobbiamo vivere secondo la mente di Dio non devi pensare che questo argomento solo all'idea ti sporca no quando tu pensi a questo argomento devi pensare al creatore che ha creato queste cose questo progetto e lo ha messo a disposizione dell'uomo nelle chiese oggi c'è un problema di fondo molti responsabili molti conduttori forse anche pastori credono di poter liberare le persone dalle loro problematiche sessuali con approcci legalistici con eventuali minacce di discipline agendo più in nome della legge che in nome della grazia mi colpisce a tal proposito è forte questa citazione ma ve l'ho detto che è una riflessione a colori mi colpisce a tal proposito una citazione di un pastore delle chiese delle assemblee di Dio che si trova negli Stati Uniti questa citazione è datata pensate un po' 6 luglio 1968 Dante Gebel che dice ai suoi colleghi pastori nella chiesa o ai suoi colleghi in America si chiamano così reverendi sono arcistufo di colleghi conservi che ai convegni mettono la postura legalista dicendo dobbiamo prendere questo nel 68 dobbiamo prendere posizione sulla questione dell'omosessualità e delle madri single periodo in cui si affacciava il momento o chiamiamolo così lo scandalo della madre single no no non è questo il punto dice per affrontare i problemi o questi problemi bisogna amare le persone non propinare dottrina puoi propinare dottrina senza mai coinvolgerti con gli indottrinati per farlo però bisogna amarli perché puoi ascolta bene questo è da è da come si dice post ecco perché puoi servire senza amare ma non puoi amare senza servire puoi servire senza amare ma non puoi amare senza servire e come si fa ai problemi bisogna dare nome e cognome non mi importa niente dice questo pastore del tuo pensiero astratto voglio sapere non mi spaventate se l'omosessuale di turno è tuo figlio e se la single incinta è tua figlia cosa fai perché noi siamo propinatori di dottrina sempre sugli altri non deve mai capitare a noi però e allora questo reverendo questo pastore dice cambiamo la scena visto che noi siamo in un convegno per dire prendiamo posizione contro questo e la parola ci invita a prendere ovviamente posizione ma una posizione di dottrina o di una dottrina che passa dalla capacità di amore e di servizio cosa dici a tua figlia che è tornata a casa con una gravidanza via fuori di casa a vivere in strada finché non ti ravvedi e poi per il figlio gay ok ma per la figlia incinta come come la metti con il figlio del peccato ovviamente lo mette tra virgolette tuo nipote chiamalo con il suo nome comune e proprio di persona che correrà per la sala di culto fino a che non gli cresceranno i peli sulle gambe cioè diventa adulto forse il consiglio giusto è un aborto nascosto in uno stato più liberale di quello in cui tu ministri sappiate che in questo campo se decideremo di camminare per il sentiero legalista tutti noi me compreso questo sono io che scrivo saremo condannati ad una vita di frustrazioni combattimenti irrisolti perduranti anni a tempeste spirituali e tra parentesi ho messo ormonali nascoste con il rischio dopo e questo è ciò che sta raccogliendo la società oggi il rischio elevato di incorrere in devianze di vari tipi non esistono ragionevoli mezzi umani per far fronte a qualcosa come il peccato sessuale che nel corso della sua storia è riuscito ad ingannare e a schiavizzare milioni di persone sarebbe una follia pensare di agire soltanto attraverso forze e risorse umane senza pensare che in tutto questo invece debba avere una particolare partecipazione lo spirito santo colui che più di ogni altro è interessato al bene del singolo credente e del corpo di Cristo scopriremo più avanti che è una questione di relazione con lo spirito santo tuttavia è giusto essere consapevoli del fatto che questa è una consapevolezza che dobbiamo acquisire ce l'abbiamo ma forse non l'abbiamo acquisita con i giusti dettami dobbiamo acquisire questa consapevolezza che se c'è un ambito della nostra condizione decaduta nella quale si rivela costantemente e in modo evidente la forza e la degenerazione del peccato è proprio quello dei mali sessuali che vengono commessi ogni giorno detto questo la Bibbia possiede le chiavi per farci uscire da questa prigione e per farci vivere ascolta bene in modo gioioso e felice il dono che il Signore ha fatto all'inizio della creazione se è un dono i doni rallegrano o no ci siete? non è peccato dire a me se è qualcosa che Dio ti ha dato deve portarti gioia deve poterti far dire a Dio che bello Signore è per me grazie è per la mia vita è per il mio matrimonio è un dono ed è un dono che Dio ha fatto a tutti gli uomini ma che solo attraverso la rigenerazione possiamo sperimentare in modo sereno giusto santo lontano da eventuali sensi di colpe paure o tabù che da questa sera vogliamo abbattere nel nome di Gesù per combattere i numerosi tabù ne abbiamo diverso stasera ne buttiamo uno a terra che ci siamo creati intorno alla questione sesso sessualità per abbattere il gigante che ci ha reso schiavi intorno a questa importante questione è necessario che potrebbe sembrare una frase una frase fatta ma è così è necessario che come chiesa torniamo al Vangelo su questo argomento sembra banale vero una frase del genere cioè io ti sto dicendo per vivere il dono della sessualità in modo gioioso dobbiamo tornare al Vangelo che è strano perché sembra che fino adesso Vangelo e sessualità sono due cose opposte fratelli amici giovani genitori io ho una brutta notizia da darvi e la notizia è questa se non ci pensiamo noi in queste sedi ci penserà il mondo a trasmettere le sue idee intorno alla sessualità anzi la brutta notizia è questa probabilmente molti giovani hanno già ricevuto dal mondo nozioni intorno alla sessualità e allora non è che noi l'unica cosa che possiamo fare è cercare di risolvere la questione la mattina che ne so pregando signore proteggi i miei figli liberali guardali perché noi non possiamo pensare di proteggere i nostri figli io ne ho quattro senza dare luce ad alcuni a loro ad alcuni argomenti che sono nella Bibbia io non posso pensare che con una preghiera risolvo la questione di mia figlia che va a scuola a 13 anni sta diventando adolescente e credo che quella sia a meno io mi ricordo in quel periodo quello sia l'età dove già insomma i ragazzini si affacciano bussano fanno gli occhietti no? noi facciamo poi le occhiate dopo però io non posso pensare semplicemente di risolvere la questione con mia moglie signore proteggi come si faceva in antica metti sotto al sangue di Gesù vabbè ma non è che deve diventare su ora mia figlia c'è una protezione su cosa la protezione la conoscenza della parola che io gli darò a loro non si tratta semplicemente di dire a lei o ai miei figli che adesso gli altri sono grandi di dire mi raccomando quando senti se un ragazzo ti guarda mettiti sotto al sangue di Gesù no? perché così io non voglio un figlio che se ricevo un complimento da una ragazza sangue di Gesù no fratello questa non è la chiesa del signore io voglio un figlio che abbia aperto i canali dell'intelligenza spirituale che di fronte a un complimento sappia anche dire grazie ti ringrazio per il complimento e che nello stesso tempo sappia discernere se quel complimento ha dei messaggi a come dire degli obiettivi o semplicemente io non voglio dire continuamente ai miei figli prega 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 cioè quasi no stordirli io attraverso questo studio mi auguro e mi auspico che le nostre chiese partoriscano dei soldati liberi nella mente non impauriti non imprigionati consapevoli ma ripieni del signore capaci di rimanere fermi in determinate cose non perché il padre l'ha sgridato in testa ma perché iniziano ad essere attirati da queste cose secondo il dono di Dio e non secondo la trasmissione che viene diciamo da da una società che è senza Dio quindi deve tornare al Vangelo e quando dico deve tornare al Vangelo sto dicendo Samuele scopri che cosa dice il Vangelo su questo vai al Vangelo e scopri che è una cosa meravigliosa e il Vangelo stesso ti arma ti equipaggia per viverlo in modo piacevole gustoso in modo benedetto ti sembra così difficile questa scelta di fronte a questo problema se io ti dico vai al Vangelo ti sembra strano ti sembra difficile quando parlo del Vangelo non parlo della parrocchia questi sono termini che sto usando per perché devono entrare in questo testo in questo libro che uscirà non parlo della parrocchia quando io ti dico vai al Vangelo non sto dicendo chiuditi in chiesa non sto dicendo neppure fai più culti possibili non ti sto chiedendo adesso alcuni giovani sorrideranno qui perché è una delle cose più piacevoli della chiesa che cura e che alcuni giovani si aprono con me e a me fa piacere non ti sto chiedendo di schiantarti in preghiera quello che vi dicevo prima no sangue di Gesù sangue di Gesù sangue di Gesù e che dice questo la scrittura non ti sto chiedendo di schiantarti in preghiera e piangere o a prendertela con Dio perché ti accorgi di essere così debole davanti a certe cadute e pressioni carnali si cade non si regge e te la prendi con Dio no perché Dio ti ha già dato un'indicazione che è favolosa la scopriremo ovviamente non stasera in queste 6-7 lezioni quando ti chiedo di andare al Vangelo questa è un'altra cosa da postare quando ti chiedo di andare al Vangelo ti chiedo di afferrare tutto il potere della grazia che Cristo ti ha offerto il fatto che la Chiesa debba tornare al Vangelo non può significare altro se non quello di tornare ad afferrare tutte le promesse che leggiamo nella scrittura afferrare la pienezza della grazia significa Signore io non ti chiedo di farmi afferrare la grazia soltanto nei culti nell'adorazione nelle crociate evangelistiche sotto le tende ti chiedo di farmi afferrare la grazia tutta la grazia anche nella sfera sessuale permettimi di afferrare la potenza della grazia in questa sfera che a causa della mia gioventù della mia adolescenza spesso mi fa sentire fallito e quando parlo di afferrare tutta la potenza della grazia parlo anche ai mariti e alle mogli ogni giorno numerose persone ed altrettanti credenti giovani e meno giovani si rivolgono alla sessualità per riempire i loro vuoti per mettere a tacere problemi sofferenze dispiaceri rendendo questi legami di dipendenza ancora più opprimenti spesso questi comportamenti producono una terribile sofferenza e uno schiacciante peso derivante dalla vergogna da qui la chiusura al riccio di molti membri di chiesa che decidono di consacrare l'apparenza al migliore abito da indossare e nella peggiore delle ipotesi si sceglie la tunica del legalismo che ci rende apparentemente forti e santificati l'unica cosa che sappiamo dire di fronte a determinate cose non solo nella sfera sessuale questo non si fa questo non piace il signore non vuole questo è legalismo no 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 crea persone frustrate bisogna spiegare bisogna incontrarsi ragionare la scrittura è un meraviglioso libro che il signore ci ha dato per ragionare per guardarsi dentro e per ricevere da essa le promesse che ci aiutano ad essere credenti forti non confondiamoci la strada corretta non è quella di rivestirsi di una sorta di santità bigotta che evita alcuni argomenti considerandoli erroneamente scabrosi da buon guardiano della dottrina facendo sedere uomini e donne separati controllando le lunghezze delle gonne all'ingresso della sala di culto non è certo mia intenzione proporre un'apologia del libertinaggio ma richiamare l'attenzione su alcuni comportamenti legalistici non biblici potrebbe essere devastante per la crescita della chiesa perché ci impediranno di esercitare una matura libertà in Cristo anche nell'ambito della sessualità all'interno del matrimonio cristiano come voluto da Dio per i suoi amati figli che addirittura rischiano di trasformarsi in frustrazione e comportamenti deviati se la chiesa ritorna al vangelo scopre la consapevolezza che Gesù governa l'intero universo e sotto di Lui il suo regno continuerà ad avanzare Gesù è Signore su tutto non dimenticarlo su tutto su ogni situazione su ogni luogo e relazione è Signore anche nel tempo e in ogni ora anche in quella della tentazione quindi se è così ragazzi nessuna disperazione il fatto che Gesù regni ci garantisce che Egli ci donerà tutte le cose che ha promesso ricordati adolescente giovane ricordati che se Gesù regna tu lo sai che regna perché lo ha sperimentato ricordati che attraverso il suo regno noi possiamo ricevere tutte le cose che Lui ci ha promesso anche nella sfera sessuale quindi niente disperazione camminiamo nella conoscenza della Sacra Scrittura per capire in che modo abbattere e tagliare la testa al Goliath del sesso mentre aspettiamo nuovi cieli e nuova terra quando il re metterà fine ad ogni lotta spirituale anche nell'ambito spirituale sessuale una sfida ardua adesso vi prendo un passo della scrittura dove ci scopriremo tutti sotto il fuoco ed è bello quando è la scrittura che dice Gennaro guarda che anche tu sei sotto questo fuoco quando la scrittura guarda ai salvati ai gradenti e dice non ti illudere e non far illudere gli altri perché anche tu sei sotto questo fuoco sentite questo passo è straordinario bisogna essere consapevoli del tempo in cui viviamo se vogliamo affrontare nel modo migliore quelle battaglie di cui faremmo volontariamente a meno ma che come nella questione sessuale che è una questione naturale non puoi tirarti indietro ora vi faccio una domanda voi mi perdonerete per questa domanda c'è qualcuno che può dire pubblicamente io sono libero da questi combattimenti c'è qualcuno che può ammettere che questo argomento non lo riguarda no ma sapete perché non perché siete peccatori perché siete esseri sessuali è tutto qui quando saremo col Signore saremo come gli angeli ma non siamo come angeli io non vedo ali indietro a voi non c'è nessuno che se c'è qualcuno con le ali fatti una volata intorno al locale e così capiremo che tu sei libero da questi problemi ma ditemi una cosa vi spaventa che un pastore vi chiami in causa così e vi dica che siamo tutti sotto il fuoco e non credete a chi vi dice ah io di questi problemi non ne ho vi sta mentendo se trovate qualcuna che dice io posso anche fare a meno chiedetegli di spiccare il volo allora già si ti fai una volata perché sono gli angeli che sono asessuali è chiaro che la questione in maniera più forte può riguardare adolescenti giovani no e man mano è anche chiaro questo mi perdoneranno i responsabili del dipartimento giovanile che questo argomento non può essere trattato a mio avviso o condotto da chi ha un'età che va dai 20 ai 35 insomma dovrebbe essere trattato da quelli come me iniziano a vedere non molto lontano il tramonto luminoso e quindi dove ad un certo punto hai un'esperienza anche per prendere mettere insieme assemblare come argomenti e dire forse la questione va trattata così il momento che viviamo è follemente degenerato su questo sotto tutti i punti di vista forse perché siamo alla fine dei tempi e perché la scrittura ci avverte che ci troviamo nel periodo in cui l'iniquità si è moltiplicata la questione sessuale è indubbiamente la parte più toccata e più compromessa quindi la battaglia da vincere nel campo sessuale va affrontata solo se abbiamo chiaro il contesto e l'ambiente in cui questo conflitto si verifica c'è un passo della parola di Dio che adesso vi leggo che è meraviglioso che i Romani mette in luce in modo profondo la sofferenza a cui tutti gli uomini sono sottoposti a causa della continua lotta con il peccato ma mette in luce anche la speranza che possiamo avere se riponiamo tutta la nostra fiducia nell'opera dello Spirito Santo questo passo stesso getta a terra un tabù che tra poco vi dico qual è questo tabù senti cosa dice questo passo io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo ascolta poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà ma motivo di colui che ve l'ha sottoposta nella sentite bene nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio ascolta tabù che cade sappiamo infatti che tutta la creazione geme ed è in travaglio non solo essa cade il tabù dei santoni ma anche noi che abbiamo le primizie dello spirito gemiamo dentro di noi aspettando l'attenzione è chiaro? cosa non hai capito? siamo in guerra anche noi che abbiamo le primizie dello spirito la pienezza che tu puoi ricevere dal Signore non ti libererà dai bisogni della tua sessualità fatti riempire dal Signore ma quindi ti farà vivere la sessualità come piace a Dio ma non la elimina io da quando mi sono convertito non sento più niente è vero non è vero perché la scrittura dice che c'è la possibilità tra marito e moglie di prendersi un tempo di preghiera e quindi di non avere rapporti sessuali in questo tempo di preghiera ma poi la scrittura stesso dice senza esagerare con la preghiera così dice non per molto tempo affinché il diavolo non vi faccia cadere e quindi noi siamo responsabili nei confronti delle nostre mogli e le moglie nei confronti nostri ed è una cosa che va programmata insieme c'è un passo ancora più forte ma questo lo vedremo più avanti dove addirittura Paolo dice che il corpo non è tuo e il corpo del coniuge non è suo quasi come per dire vivete quello che Dio ha dato non fuggite da quello che Dio vi ha messo davanti perché voi possiate vivere bene quindi dice anche noi che abbiamo le primizie dello spirito quando prima vi dicevo siamo tutti potenzialmente sotto il fuoco non sto dicendo che tutti soffriamo sto dicendo che potenzialmente anche quelli che hanno le primizie dello spirito cioè quelli che hanno realizzato cose importanti nello spirito sono in guerra in lotta gemono anche noi aspettando la redenzione di cosa del nostro corpo perché vivono in guerra con i bisogni di questo corpo la differenza tra noi figli tra noi membri della famiglia di Dio di cui facciamo parte secondo le regole di Giovanni 1 12 e tutti gli uomini che non hanno avuto ancora conoscenza di Dio c'è una differenza tra chi non conosce Dio e chi lo conosce e che questi ultimi cioè quelli che non conoscono Dio sono schiavi delle loro passioni e quindi combattono da prigionieri in un certo senso noi invece possiamo combattere questa corruzione questo combattimento da uomini liberi perché siamo stati redenti e quindi ogni battaglia ogni guerra ogni attacco lo possiamo vivere non come lo vive il mondo ma nella pienezza della redenzione signore io ho la tua grazia in che modo posso vivere questo combattimento quindi ascoltate bene non si tratta di avere la cosiddetta arma in più vi hanno mai detto questo? ma noi abbiamo un'arma in più no noi non abbiamo un'arma in più rispetto agli altri è la condizione che è diversa prova a chiedere ad un detenuto di vincere una guerra mentre si trova dietro le sbarre di un carcere perderebbe in partenza a causa della sua condizione per quanto forte possa essere un detenuto se è dietro le sbarre come fa a combattere? è schiavo la sua condizione dice che di partenza è potenzialmente uno sconfitto è dentro una gabbia è dentro una stanza tre metri per due per andare in guerra contro un nemico di questa portata bisogna essere in condizione di poterci muovere liberamente e la condizione per essere liberi se vuoi scoprire questo dono in modo meraviglioso devi essere in Cristo se non sei in Cristo puoi dire 200 volte al giorno sangue di Gesù avviert perché non sono le formule eventualmente magiche che ci liberano da determinate cose è la condizione è l'essere in Cristo è la posizione è la redenzione che ci rende vittoriosi mentre gemiamo anche noi aspettando l'adozione e la redenzione del corpo questo gemere è un'esperienza di sofferenza universale e naturale a tutto tondo vissuta non solo dall'uomo ma da ogni essere vivente sulla terra nessuno è fuori da questo problema nessuno è fuori da questo argomento ma ve lo dico non è non è che il diavolo capitemi si è inventato la droga e quindi ad un certo punto è riuscito a con questa droga a coinvolgere tutti gli abitanti del mondo la sessualità non l'ha inventata il diavolo è una creazione divina che è stata data al primo uomo alla prima donna e quindi di conseguenza a tutti gli uomini e quindi è una questione di tutti gli uomini poi va bene possiamo anche parlare del famoso dono che ad alcuni li rende è un uchi secondo il signore ma quello è un altro argomento sicuro qui non ci sono è un uchi vi conosco sicuro voi dite come fai a saperlo se eri a un uco tu non stai io qua stasera tu dicevi no non è per me io sono con i 144.000 stasera sul monte Sion invece sei qui perché avverti il bisogno la portata la necessità come io avverto il bisogno di ammaestrare di fortificare di riguardo a questo argomento mi aspetto altri attacchi ovviamente dal nemico perché il nemico su questo ci sguazza è una zona franca al nemico fa piacere che alcune chiese non trattano proprio l'argomento tanto si muove sotto banco fa cadere un sacco di birilli di nascosto anche quelli che ci sorridono e apparentemente sembrano a posto non puoi sapere poi cosa c'è nel loro cuore nella loro vita nella loro mente quando sono soli la sessualità come un dono di Dio non vissuta pienamente per come egli stesso l'ha pensata e la intende tuttora comporta una sofferenza in quanto come credenti siamo chiamati a confrontarci oggi con questa società con le sue diverse ridefinizioni distorsioni deformazioni non molto tempo fa mia figlia ci ha raccontato così in maniera molto spontanea è venuta a casa a mia mia moglie e ci ha raccontato con una grande spontaneità sai che ci sono due ragazze fidanzate tra di loro quindi il contesto ci pone di fronte a delle deformazioni che fai cosa gli dici quando li vedi voglia il sangue di Gesù glielo spieghi questo serve per spiegare per preparare anche perché io non dirò mai a mia figlia di allontanarsi da loro non dirò mai quando li vedi scappa la preparerò in modo che lei possa essere una risorsa come anche gli altri figli in una società di tenebre noi non siamo chiamati ad essere candele di bellezza spente nel mobile nei soprammobili soprammobili della chiesa ma candele che illuminano ma possono illuminare non semplicemente dicendo cosa fai a Dio non piace noi lo sappiamo ma loro non lo sanno se già sono lontani da Dio digli a Dio non piace significa in qualche modo ufficializzare la lontananza loro ti possono tranquillamente dire e lo so quindi non siamo interessati grazie certo che a Dio non piace ma il nostro messaggio non può ridursi a questo il nostro messaggio è Dio vuole renderti felice vuole riempire la tua vita e poi tu scopri che queste situazioni in realtà vengono da abissi di sofferenza da situazioni legate alla loro infanzia e quindi diventano ponti che ci permettono di entrare in luoghi oscuri di parlare di Dio di riempire la loro vita con la buona notizia pertanto quando ci confrontiamo con gli altri cari ragazzi potremmo anche scoprire in noi non ci rimanete male le ragioni di una sofferenza all'interno della tentazione di vivere la nostra sessualità al di fuori dei confini stabiliti da Dio se non siamo abbastanza preparati il rischio è che dall'altra parte noi potremmo essere influenzati per vivere le stesse cose in una società globalizzata i messaggi sono molteplici moltiformi ed ogni relazione potrebbe risultare alterata sotto tanti punti di vista le generazioni di oggi e non dico i giovani anche noi siamo una generazione di oggi sono quotidianamente bombardate da messaggi sessuali di ogni genere diretti e indiretti espliciti e sottintesi a subire questo bombardamento però è la chiesa fatta di credenti che vogliono camminare nella presenza di Dio non molto tempo fa un giovane ovviamente sapete che io non faccio mai nomi proprio sotto i colpi di questo chiamiamolo così bisogno voleva rinunciare a degli incarichi ce la faccio mi sono reso conto eh magari solo per un tempo il conflitto diventa forte e allora cosa devi fare lo devi avvicinare gli devi far capire che tu non sei un alieno che scende dal cielo gli devi far capire che queste lotte probabilmente le affronti anche tu che però in Cristo hai trovato la soluzione l'essere in Cristo riesce a farci rimanere in piedi e a vivere e ad andare avanti con la benedizione del Signore è la Chiesa sotto il bombardamento non la società perché la società è già caduta sotto questo attacco questa società è dominata dal relativismo postmoderno che con buona pace dei filosofi rassumiamo in questo contesto con questa frase se esiste se lo sento va bene e lo faccio io voglio fare tutto quello che sento associato a superficiali slogan che inneggiano alla tolleranza quasi come una sorta di ufficializzazione di autorizzazione vale tutto se ti fa star bene fallo esistono tuttavia dei principi come fondamenti di una società sicura basata e costruita su regole imprescindibili sia etiche sia morali che dovrebbero garantire benedizione e diritti in ogni tempo in ogni luogo oggi la tentazione è dietro l'angolo e tutti noi siamo coinvolti aprendo la posta elettronica quanti di voi usano le email io una volta mi sono preoccupato ho detto ma perché quando io apro le email compaiono sempre queste donne nude poi chiedendo a qualcuno ho capito che comparivano anche agli altri allora sono rimasto meno preoccupato io devo spedire una email magari importante che tu apri ti scali e ti compaiono le lingerie e ce l'hai lì ingrandita mentre tu stai cercando di aprire un email io non l'ho chiesta perché mi deve apparire poi ho capito che questo vi appare anche a voi appare anche a voi ecco tu apri l'email e la prima immagine che ti arriva è questa che proietta dei messaggi ora mi può proiettare poco però immagino degli adolescenti dei ragazzi che aprono e che vedono guardano non so che cosa succede nel loro cuore nella loro mente vai al centro commerciale con la tua famiglia per fare qualche acquisto e siamo circondati di immagini pubblicitarie che in ogni momento parlano di sesso dappertutto non esiste più tu dici io non vado più nella corsia dell'intimo ma dappertutto la frutta i dolci la pasta dappertutto cioè devi camminare così anche se fai delle semplici ricerche su internet dai nostri cellulari o fare zapping con il telecomando sul divano di casa diventa per alcuni un continuo esame tu vuoi sapere più tardi come è la questione in Ucraina devi prima passare per delle immagini che ti dicono come la questione sessuale io voglio sapere di Putin posso sapere di Putin e basta posso sapere a che punto siamo col nucleare o devo prima viaggiare con la mia mente possibile che in Ucraina ci arriva con tutte queste signorine insomma è un bombardamento quando io vi dico siamo tutti sotto il fuoco da questo punto di vista è che siamo in combattimento ce la faremo a vincere che strumenti abbiamo per resistere a questo combattimento in che modo possiamo vivere la nostra sessualità nel timore di Dio apprezzando ciò che il Signore ci ha donato senza in alcun modo mortificare ciò che è naturale l'avanzata dell'iniquità di questi ultimi decenni non deve farci pensare che il Signore ha interrotto il suo piano ricordiamoci che il suo regno non avrà mai fine per affrontare nel modo giusto la questione che ci prefiggiamo in questo testo bisogna che comprendiamo e accettiamo la condizione in cui viviamo in modo da non coltivare aspettative irrealistiche che poi ci faranno affrontare da sprovveduti determinate lotte che inevitabilmente arriveranno dobbiamo abbattere il primo tabù il primo tabù è questo nessuno di noi è libero da questo combattimento anche noi che abbiamo le primizie dello spirito l'intera sessualità nel mondo geme ed è in travaglio a causa di una degenerazione profonda e radicale e essere consapevoli che questi attacchi non vengono solo dall'esterno ma anche dall'interno del nostro cuore noi siamo questo è quello questo è il punto di partenza per gli altri sette incontri noi siamo esseri sessuali punto ti devi entrare qui non c'entra la religione Dio ti ha creato così e quindi devi agire crescere muoverti a partire da questa condizione Dio mi ha creato così e non ti ha creato così a motivo del peccato ti ha creato così perché la sua creazione è perfetta creandoti come essere sessuale Dio ha detto e viene che era molto buono a Dio piace così quindi facendo leva sul fatto che siamo così costruiamo allora siamo esseri sessuali ascoltate ascoltate bene siamo esseri sessuali anche quando nasciamo di nuovo siamo esseri sessuali quando veniamo battezzati nello spirito santo siamo esseri sessuali quando decidiamo di dare tutta la vita al Signore i governi non possono riporrere riporrere in media questa degenerazione anzi per molti aspetti incentivano certe libertà parlando di progresso e di evoluzione le scuole le istituzioni accademiche provano ad inserire all'interno dei programmi nuove strade che aprono ad un terribile relativismo che fra pochi anni avrà devastato i valori che per millenni hanno fatto la storia a partire come direbbero i latini dall'istituzio famiglie e nemmeno la scienza medica la scienza psicologica la sociologia riescono a trattare a sanare completamente le sofferenze interiori spesso derivanti proprio da problemi sessuali a motivo di devianze parleremo in questi sette appuntamenti anche di abusi questo mondo ha necessità di un redentore che con la sua potenza porti pienezza e pace nel cuore ascolta questo passaggio importante è un po' filosofico ma importante l'uomo non ha bisogno di essere capito l'uomo ha bisogno di capirsi tu non hai bisogno che gli altri ti capiscono rispetto a questo argomento la cosa più importante è che tu ti capisca per capirsi ha bisogno di rivedersi per rivedersi ha bisogno di uno specchio per vedere la sua immagine la ricerca della sua immagine lo porterà all'inizio di tutto ma anche al centro della storia all'inizio di tutto ritroverà la sua immagine in Dio la ritroverà nel giardino d'Eden la questione dove nasce nel giardino d'Eden si scoprirà fatto in un modo stupendo ma allo stesso tempo si vedrà perso a causa della sua stessa caduta a motivo del peccato come fare allora a ritrovare ciò che si è perduto bisognerà che dall'inizio di tutto si arrivi al centro della storia dell'uomo all'anno in cui Dio entra nella storia dell'umanità attraverso la venuta di Gesù per recuperare come vero uomo l'immagine che l'uomo stesso ha perso Gesù non è venuto come un angelo è venuto come vero uomo questa volta non lo farà nel giardino dell'Eden ma sulla collina del Calvario attraverso la sua morte innocente qui con l'affermazione pubblica tutto è compiuto l'uomo sarà completamente riscattato e la sua immagine completamente recuperata con il nuovo Adamo la sua grazia che perdona e trasforma è l'unica speranza per noi e per tutti gli uomini anche per quanto riguarda la degenerazione sessuale Cristo ha potere in tutto ho conosciuto numerosi adolescenti giovani e non solo che hanno profuso un impegno immane per conservarsi puri da determinati peccati nella sfera sessuale li ho visti piangere quando sono venuti da me mi hanno detto io non ce la faccio non resisto sono caduto si sono fortemente scoraggiati sotto i colpi di tentazioni perduranti si sono persi e hanno smesso di lottare quando i loro pensieri hanno iniziato a vagare nell'arena sessuale realizziamo il grande bisogno che abbiamo della grazia di Dio pertanto per rimanere in piedi in questa arena la prima cosa da fare è non sottolineare spesso sempre la degenerazione del mondo ma la potenza della grazia di Dio alcuni ho terminato cadono proprio perché davanti ai loro occhi risalta di più il potere di quello che vediamo fuori che la potenza della rigenerazione caro amico ti faccio una domanda prima di concludere ti sei mai chiesto dove agisce la grazia di Dio vi siete mai chiesti dove agisce la grazia di Dio prova a porti questa domanda adesso prova a porla a chi ti ha a fianco girati a fianco e digli e digli ma dove agisce la grazia di Dio diglielo dove agisce fagli la domanda deve essere una domanda onesta perché la risposta è più onesta di quanto tu immagini dove agisce la grazia di Dio sono sicuro che alcuni di voi vorrebbero rispondere così la grazia di Dio agisce dove c'è la consagrazione la grazia di Dio agisce dove c'è la potenza la grazia di Dio agisce dove c'è la benedizione dove c'è una chiamata no ti sbagli ti deludo stasera la grazia di Dio non agisce dove sei forte ma dove sei debole il diavolo lo sa molto bene e trema di fronte a questa verità ti dirà che hai bisogno di uno psicologo di una terapia di un consulente matrimoniale specializzato nell'intimità di coppie non andate da nessun consulente sono cose vostre intime non fate entrare gente strana nella vostra vita ti dirà forse che certe cose puoi farle il diavolo perché tanto le fanno tutti solleverà spesso nella tua vita la questione della debolezza sui tuoi peccati sei debole non puoi servire Dio non preoccuparti se continui a sbagliare a peccare tanto Dio lo sa il diavolo non ti porterà mai verso la grazia che ti fortifica e ti rende vittorioso sulle tue debolezze ciò che oggi devi sapere è che la grazia ti dona ciò che non puoi fare da solo ed essa è ampiamente disponibile in ogni aspetto della nostra vita anche in quello che riguarda la degenerazione sessuale in noi e intorno a noi questa è la vera buona notizia tutti siamo sotto i colpi della degenerazione sessuale ma a differenza di tutti noi abbiamo la grazia che vissuta in modo pieno ci permetterà di vivere la nostra sessualità in modo sano e pieno come Dio l'ha concepita e adesso attraverso la voce di Eleonora vi farò ascoltare la risposta che un pastore ha dato ad un allonescente quando ha deciso di fare la sua prima esperienza sessuale fuori dal matrimonio si è presentato dal pastore e ha detto l'ho fatto perché ho amato una ragazza il pastore gli ha risposto una frase della tua lettera mi ha fatto particolarmente pensare tu scrivi ho amato una ragazza no mio caro tu non hai amato quella ragazza sei andato a letto con lei sono due cose del tutto diverse hai avuto un'esperienza sessuale ma non hai saputo che cos'è l'amore certo tu puoi dire ad una ragazza ti amo ma ciò che in realtà intendi è tutt'altro tu intendi dire voglio avere qualcosa non te ma qualcosa di te non ho tempo per aspettare voglio averla subito di ciò che accadrà in seguito non mi importa non mi interessa se poi vivremo insieme se tu rimani incinta ciò che mi interessa è il momento presente mi servo di te per soddisfare i miei desideri tu sei per me solo un mezzo perché io possa conseguire il mio fine io voglio avere avere senza condizioni avere subito ebbene questo è il contrario dell'amore l'amore vuol dire dare l'amore cerca la felicità dell'altro non la propria tu hai agito come un crasso egoista invece di dire ho amato una ragazza avresti dovuto dire ho amato me e soltanto me a questo scopo mi sono servito ad una ragazza lascia che io ti dica che cosa significa davvero ti amo vuol dire tu 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 ci sarai tu sola tu hai occupato tutto il mio cuore sei la persona a cui aspiravo senza la quale sono imperfetto per te darò tutto anche me stesso voglio vivere solo per te per te voglio lavorare te voglio aspettare non ti voglio forzare mai neppure con le parole di fronte a te sarò sempre franco sincero trasparente ti voglio proteggere custodire con te voglio dividere tutto voglio dividere la vita ti voglio sempre ascoltare non farò nulla senza di te con te voglio rimanere sempre ti rendi conto quanto la tua esperienza sia stata lontana da un'esperienza d'amore neppure il nome conosci di quella ragazza ella non è stata per te una persona ma solo un numero non ti interessava il suo passato né il suo futuro ti era indifferente ciò che passava nel suo cuore quando l'hai presa e se ora ella ha concepito a far suo a te che importa no tu non l'hai amata l'amore assume la responsabilità per l'altro chi ama non dice più io ma tu sono responsabile per te tu sei responsabile per me insieme le due persone che si amano stanno dinanzi a Dio e dicono non solo tu e io ma noi e questo noi trova la sua piena attuazione nel matrimonio solo nel matrimonio l'amore fra uomo e donna può esprimersi pienamente perché ha bisogno di costanza e di fedeltà l'amore vero non può non vuole aver mai una fine perciò dovresti essere molto cauto nel dire le grandi parole ti amo anzi dovresti dirle soltanto alla ragazza che un giorno sposerai il matrimonio soltanto è il luogo per la tua sessualità essa ti aiuterà anche ad amare tua moglie sarà una parola una fra le tante con cui le potrai dire quanto la ami ma prima del matrimonio questa parola non la puoi pronunciare se lasci che la tua sessualità si scateni scissa dall'amore ti prepari ad un matrimonio infelice chiudo così credo che questa lettera ti darà abbastanza da riflettere ma conta sempre sulla mia amicizia e sulle mie preghiere nonostante tutto bene per questa sera abbiamo terminato la nostra prima lezione il nostro viaggio verso la sessualità nella Bibbia la fine dei tabù ricordati che tu non hai un'arma in più hai la grazia di essere in Cristo questo è ciò che ti renderà vittorioso e gioioso all'interno di questo dono che Dio ti ha fatto Dio ci benedica Dio ciò